Ciao amiche di Rimedi Naturali, oggi vi voglio parlare di due alimenti che troviamo facilmente a casa nostra e sono lo zucchero e il limone. Il limone sappiamo che ha proprietà schierenti e antibatteriche e lo zucchero è molto molto utile quando vogliamo fare per esempio degli scrub. Io ho scoperto che uno scrub fatto di succo di limone e zucchero può essere molto utile per eliminare quelle fastidiose macchie aloni che molto spesso possiamo trovare sotto le ascelle per via di tessuti o anche di depilazione. Se volete scoprire tutti i rimediucci per gli aloni sotto le ascelle vi lascio il link sotto al video. Un bacio e ciao!